Ah, devi parlare. Eh sì, ti rinvole. Ok, eh, noi... Stai dicendo? Oh, dai un'aiuto a prendere. Ma però sono divisi di caldo. Stai a fare una ragazza di bari che gli faceva risposta. Allora, stavo dicendo che pure se sto da lavatore, che sono stanchissima, e arrivo a fare zumba, cioè... Si riprende. Sì. Io a volte ricordo, a forza, veramente mi stanga molto. Però appena vado a questo... Ma io tutte le volte mi sono stanga. Ah, tu sei un massimo. Tu sei proprio... Se zumba a massimo, no? Quella cosa è Alessandro. E poi è al massimo. E si dimagrisce. Si zumba. È vero. E se cerchi di mangiare qua, almeno... E come mani possiede chiedere se vogliamo? TG.